Il carcere non è solo contenimento ma anche accudimento ed integrazione. I dati oggi confermano che il carcere è un'azienda in fallimento. L'80% delle persone che escono dal carcere poi ci ritornano. Da queste considerazioni questa mattina il garante delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha presentato presso la casa circondareale di Salerno lo sportello socio-legale assistenziale promosso dall'ufficio del garante e gestito dall'associazione Il Faro che vede coinvolto l'istituto penitenziario di Forni e l'ICAT di Eboli. Per il garante Samuele Ciambriello l'obiettivo del progetto è favorire l'orientamento ai servizi socio-assistenziali e del mondo del volontariato oltre che aiutare i detenuti ad avere informazione di orientamenti legali per la tutela dei diritti dei ristretti. Come garante ho avviato da diversi mesi la possibilità in diversi istituti di costruire una integrazione per la mancanza di figure sociali. In tutta la campagna su 7400 detenuti ci sono appena 95 educatori, una quindicina di psicologi e quindi abbiamo voluto integrarli. Partendo da Salerno, qui a Forni e a Eboli c'è uno sportello gestito dall'associazione Il Faro messo su promosso dal garante. Noi vogliamo lavorare non soltanto dentro, ma vogliamo lavorare per il dopo e per il fuori. Abbiamo iniziato uno sportello sulla genitorialità nel carcere di Benevento, uno sportello di assistenza per i malati di mente che sono ricoverati nel carcere di Santa Maria Capovetere. Abbiamo avviato un'attività nel carcere di poggio reale per i sex offender. Abbiamo avviato sempre come garante ultimamente un'iniziativa nel carcere di Ariens. Ecco, noi stiamo lì per dire però che non basta soltanto quello che si mette in campo per la sicurezza. Bisogna mettere in campo delle esperienze in base all'articolo 27 della Costituzione che dice che il carcere serve per rieducare, per reinserire i detenuti. L'appuntamento di oggi è stata l'occasione per la neodirettrice che si è insediata da pochi giorni alla casa circondariale di Salerno, Rita Romano, per scattare una fotografia del carcere di Forni, più volte balzato agli onori della cronaca, per il quale da tempo i sindacati rimarcano un sovraffollamento. Ad oggi nella struttura di Salerno si contano 461 detenuti uomini e 43 donne, ai quali vanno aggiunti 16 persone in regime di semi libertà, per un totale di 520 persone a fronte di una capienza di 367 con un sovraccarico di 153 detenuti. Ambiziosi i progetti della nuova direttrice che ha rimarcato l'importanza di una pena giusta prima che certa. La situazione che io ho trovato è quella che i giornali un poco hanno già abbondantemente descritto. Mi piacerebbe soffermarmi di più sulla situazione che io vorrei invece realizzare e restituire. Vorrei restituire a questa città un carcere, non dico modello, insomma, perché il carcere è carcere, quindi alla fine non esiste un istituto modello, però esiste comunque un istituto e un'istituzione penitenziaria che è quella che si conforma e si uniforma a quello che è il dittato costituzionale dell'articolo 27. Nel decreto di assegnazione mia qui a Salerno mi hanno dato otto obiettivi. Io ho un altro obiettivo, portare quegli obiettivi a dieci, perché nel decreto per esempio non si parla delle misure alternative alla detenzione. Io vorrei implementare le misure alternative alla detenzione, anche perché il mio osservatorio è abbastanza particolareggiato anche per quel che riguarda le misure alternative alla detenzione, poiché dirigo anche l'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Salerno. Quindi se vogliamo dare un vero senso alla pena e al tempo soprattutto della pena per far sì che i fondi spesi dallo Stato vengano effettivamente alla fine capitalizzati, bisogna cercare di proiettare all'esterno la pena e cercare, se non di azzerare perché è un'utopia, ma quantomeno di abbassare poi sostanzialmente la recidiva. Siamo qui in questo carcere di Forni e Deboli con uno sportello socio-legale voluto dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello. Siamo qui da quattro mesi, abbiamo seguito più o meno una sessantina di detenuti e vi posso dire che il nostro appello è quello di formare altri volontari perché il mondo e la società civile deve aiutare e venire incontro a quelle che sono le necessità dei detenuti perché vi assicuro che qui dentro c'è bisogno di tanta umanità e tanta dignità.